E' stato un dispositivo di sicurezza rafforzato in Francia, nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima delle vacanze. E' stato annunciato che potranno essere mobilitati 12.500 riservisti della gendarmeria, cui si aggiungono 4.700 poliziotti riservisti. Di fronte alla minaccia terroristica, le autorità locali possono decidere di annullare feste ed eventi, come ha fatto Marsiglia, con l'esibizione della pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare che era prevista per il 13 agosto. L'obiettivo è essere in grado di mantenere tutti questi eventi, prendendo tutte le precauzioni necessarie. Ma quando non ci sono le condizioni per garantire la massima sicurezza, ovviamente le autorità locali possono decidere di annullare delle manifestazioni. Ma il nostro obiettivo è garantire un alto livello di presenza, un alto livello di sicurezza durante il periodo estivo. Il ministro dell'interno Casneuve ha anche precisato che per quanto riguarda il progetto di Guardia Nazionale da affiancare alle forze dell'ordine nella lotta contro il terrorismo, l'obiettivo è arrivare a 84.000 membri entro il 2019.